E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Sono 7-8 mesi che si sta acquendo il problema dei furti nelle civili abilazioni, presso le aziende. Noi cittadini ci siamo riuniti così spontaneamente e abbiamo chiesto al sindaco di convocare una riunione anche con le forze dell'ordine, cosa che faremo fra un po' insomma. Ma lei è una vittima? Io sono una delle vittime per ben due volte, ma con me qui oggi in Comune ci sono tante famiglie che sono state vittime di furti. E cosa chiedete alle istituzioni? Noi chiediamo più controllo, più sicurezza. Certamente devono essere delle forze dell'ordine che ci devono dire come porre più sicurezza sulle strade e di notte. Stavo dicendo al signor sindaco che psicologicamente stanno rovinando un paese, psicologicamente, perché automaticamente o la legge o un Comune, quello che sia, devono prendere i provvedimenti un po' più radicali. Secondo voi che dovrebbero fare? Io se sarei all'altezza facessi un tenente a Montesarchio, ma comunque sono loro che devono decidere la capacità per controllare determinate cose. Lei è una vittima? E come no? Anzi sono due o tre volte che sono stata la vittima. E' nulla che siamo scossi, non dopo una settimana ho paura di andare al lavoro per lasciare i miei a casa. Oggi, attualmente, ho lasciato la casa sola ma sotto anguillo perché non c'è nessuno a casa. Sono stato sollecitato da alcuni cittadini e come mio dovere, come sindaco, li ho ricevuti nella Casa Comunale per affrontare e parlare di un tema che è quello della sicurezza dei cittadini, perché purtroppo negli ultimi periodi ci sono stati molti furti nella nostra comunità. Naturalmente, come uno delle istituzioni, ho grandissima fiducia dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio e di tutte le forze dell'ordine. Infatti, domani mattina ci regheremo in caserma come comitato di rappresentanza di alcuni cittadini e andrò anche io per discutere di questo problema, per fare in modo tale che ci possa essere un po' più di controllo sul territorio. Noi dobbiamo essere vigili e attenti tutti insieme, non farci prendere da ansie particolari, anche se il tema è molto sentito e purtroppo quando capitano queste cose mi rendo conto che i cittadini sono esasperati e dobbiamo essere attenti e bravi a gestire questa problematica insieme alle forze dell'ordine. Quali sono gli interventi da fare su? Una presenza più forte delle forze dell'ordine sul territorio ha sicuramente. Montesarchio è il paese più grande del comprensorio della Compagnia di Montesarchio e credo che vada sollecitato il comando dei carabinieri di Montesarchio ad essere più presente con qualche unità in più sul nostro territorio, soprattutto in questo ultimo periodo, proprio perché ci sono stati questi fattacci. Allora l'appuntamento è domani in caserma? Domani siamo ricevuti in caserma, ho chiamato io le autorità militari e saremo ricevuti per parlare e discutere tranquillamente di questo problema e vedere cosa alle 9 di mattina. che poi non ci sono state in caserma di Montesarchio